Paolo. Buongiorno a tutti, grazie, grazie ad Alberto, grazie a Lele. Io parto proprio dalle ultime parole che ha detto il vostro Presidente della Concommercio. Io vi voglio ringraziare per la vostra scelta coraggiosa di essere qua oggi, la vostra scelta di, come diceva prima, il Presidente di rinunciare a un giorno... Signori potete spostarvi in modo che anche la piazza possa vederlo, grazie. Di rinunciare a un giorno che va meglio, presenti